Buonasera, buonasera, siamo tornati in diretta dopo la virgola registrata che abbiamo avuto in apertura delle trasmissioni, siamo in collegamento con Irene Testa per questa puntata di Voce Radicali. Grazie Irene di essere qui con noi e parleremo della marcia che ci sarà a Natale, Natale appunto 2013 fra poco, quindi per l'amnistia organizzata ovviamente dai radicali, dal mondo radicale che pian piano sta ottenendo un certo spazio anche mediatico, probabilmente non ha sufficienza, però pian piano anche probabilmente proporzionalmente alle adesioni che adesso Irene ci dirà si stanno pian piano aggiungendo nell'elenco e parliamo con lei appunto anche di questo sforzo organizzativo che ovviamente non è indifferente e vediamo un po' come sta andando, parleremo anche ovviamente di ciò che sta alla base, ovviamente la situazione carceraria, il recente messaggio di Napolitano alle Camere che tanto era atteso e cominciamo appunto con Irene, come sta andando questo sforzo organizzativo, che tipo di quante adesioni e chi ha aderito fino adesso? Guarda Gianni, allora direi che probabilmente lo sai, si è deciso di organizzare questa marcia circa una ventina di giorni fa o poco più e quindi i tempi diciamo sono stretti e quindi rispetto al fatto che in un tempo così breve ci si è messi a lavorare devo dire in tanti perché sono davvero tanti i compagni forse come da tempo non vedevo impegnati su questo fronte, ognuno diciamo con un qualcosa da fare su fronti diversi ma sempre sull'obiettivo della marcia e quindi devo dire che sia le adesioni che sono arrivate sono sicuramente adesioni importanti o comunque che chiaramente mi riferisco a quelle ad esempio dell'associazionismo carcerario, certamente non negano la loro partecipazione, la loro adesione in quanto sono poi quelli che prima di chiunque altro conoscono poi questa brutta realtà e quindi di conseguenza come sempre loro ci sono, molto si sta facendo anche sul fronte dei social network c'è diversi compagni che sono impegnati su questo fronte da Simone Sapienza, Miai Romanciuk e altri puntando anche a fare in modo che questa marcia possa essere in qualche modo autofinanziata quindi si è lanciata questa pagina dove si chiede anche un piccolo contributo per chi volesse darlo per investirlo diciamo proprio in questo progetto e anzi invito chi ci ascolta a condividerlo il più possibile su Facebook e a farlo girare perché ogni contributo che arriva è sempre importante. Perfetto, adesso la nostra regia sicuramente nella chat che nel frattempo è collegata in diretta, interattiva, ecco già ha provveduto a mettere perfetto il regista il link diciamo al posto di richiesta di aiuto e di finanziamento, di partecipazione, di coinvolgimento per questa marcia. Ovviamente è importante anche un pochino la risposta da parte delle autorità, io penso che tra i primi in qualche modo che possono essere annoverati tra gli ispiratori di questo progetto c'è un po' anche, io penso il Capo dello Stato con il suo messaggio alle Camere, però in modo più esplicito anche il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che insomma si è pronunciata a favore di questo tipo di provvedimento già da qualche tempo, avete avuto dei contatti con lei? Guarda, intanto è vero quello che dici, nel senso che sia il Presidente della Repubblica, sia il Ministro della Giustizia hanno dato dei segnali importanti su questo fronte, diciamo che tu lo sai bene, ci sono voluti alcuni anni di lotta non violenta che abbiamo fatto, soprattutto come radicali, per fare in modo che il Presidente della Repubblica in qualche modo utilizzasse lo strumento a sua disposizione che era il messaggio alle Camere, Pannella su questo ha sempre insistito, proprio perché lui lo utilizzasse come strumento, quindi quello che Napolitano ha rivolto alle Camere non è una semplice lettera o un semplice discorso come molti l'hanno probabilmente preso, ma un vero e proprio messaggio dove venivano indicate le soluzioni per questo problema e con più opzioni, ma non ultime e non secondarie, anche quella di utilizzare da parte del Parlamento strumenti quali l'indulto e l'amnistia. La Cancelliera in più occasioni, anche lei ha naturalmente detto che un provvedimento di amnistia è un provvedimento che in qualche modo potrebbe far fronte anche a tutti i processi pendenti e quindi alla situazione che abbiamo anche sul fronte della giustizia, ha sempre poi precisato che è un provvedimento di origine parlamentare e non governativa, su questo ha ragione, servono i due terzi del Parlamento per votarlo, però niente impedisce che il governo possa anche esso presentare un provvedimento al Parlamento, fanno tanti decreti, fanno tanti disegni di legge da proporre poi al Parlamento, quindi anche questo lo potrebbero fare e quindi il nostro appello o come dire l'attenzione questa volta non è rivolta solo a un Parlamento che finora è stato sordo, sordo, poco coraggioso, ipocrita anche se vogliamo, perché purtroppo certa politica e soprattutto certi partiti evidentemente costringono anche le persone che vi militano, che ci lavorano, che in qualche modo li rappresentano a non assumersi anche un senso di libertà, di decisione personale forse e quindi su questo fronte c'è veramente secondo me troppo poco coraggio e quindi per questo credo che vada riposta forse anche più fiducia che un provvedimento di questo tipo perlomeno parta dal governo. Sì, io magari un po' in ritardo e me ne scuso, non ho presentato Irene come militante storica, radicale, dirigente e anche segretario dell'associazione se non sbaglio detenuto ignoto, è sempre attiva su questo versante e quindi parleremo anche un po' dell'itinerario poi dopo, o meglio dell'arrivo che mi sembra abbastanza evocativo però prima volevo, se tu avevi a disposizione l'elenco degli aderenti, qualche nome delle persone che hanno aderito. Guarda, intanto allora per quanto riguarda le associazioni andiamo da l'associazione Antigone, l'associazione a buon diritto di Luigi Manconi, la comunità di Sant'Egidio con i quali ho parlato personalmente come è capitato anche altre volte e siccome molti di loro sono impegnati in quei giorni nelle mense per i poveri diciamo che però loro hanno in questi giorni si sono adoperati per chiedere anche ad alcuni membri della comunità di persone disagiate di partecipare, sai che poi in queste comunità spesso ci sono anche molti ex detenuti e quindi magari se informati poi hanno anche loro voglia, interesse di partecipare e quindi c'è stata questo tipo di collaborazione da Sant'Egidio però poi ci sono anche molti capellani di diverse carceri, capellani sul fronte carceri devo dire sono tra quelle figure poi fondamentali come i volontari, come lo sono gli educatori, come lo sono gli psicologi, purtroppo tutte professionalità che in carceri sono scarse, che correrebbero invece a fiumi ma purtroppo non ci sono perché non ci sono fondi e quindi di conseguenza quei pochi operatori come gli psicologi che ci lavorano fanno magari un'ora al giorno di colloquio proprio perché non ci sono le disponibilità insomma Guarda allora in questo momento e quindi siamo in anteprimissima, se così possiamo dire è arrivata la pubblicazione di un video, te lo metto qui sulla chat di Skype che abbiamo fatto proprio per diciamo promuovere questo evento se lo vorrei usare sarà utile, abbiamo fatto Libri TV, l'ha fatto Riccardo Cristiano e cerchiamo appunto di farlo circolare il più possibile ovviamente per coinvolgere le più persone possibili Per quanto riguarda, dicevo il punto di partenza e il punto d'arrivo, se non sbaglio il punto di partenza è stato fissato per San Pietro e il punto d'arrivo a Palazzo Chigi Quindi in qualche modo si rinnova praticamente la, si sottolinea di nuovo l'attenzione che come dice sempre Pannella dall'altra parte del Tevere e quindi da parte di questo nuovo Papa, insomma di questo Papa, Papa Francesco si è avversa appunto le condizioni delle carceri perché proprio Papa Francesco recentemente ha fatto proprio un se non sbaglio un discorso su questo, invitando ovviamente al rispetto delle condizioni di umanità è stato proprio quasi sembra fatto apposta e quindi insomma mi sembra più che opportuno utilizzare questo diciamo questa occasione per far partire appunto questa marcia da San Pietro proprio è già diciamo fissato l'itinerario con le varie autorizzazioni che occorrono poi peraltro questo è anche un periodo di manifestazioni di vario tipo insomma abbastanza tutti i giorni, infatti per arrivare al lavoro ogni giorno è un caos perché purtroppo c'è una manifestazione ogni giorno. La questione vi ha dato le autorizzazioni varie? Guarda io non mi sto occupando di questo aspetto, credo che ancora non ci sia una cosa definitiva nel senso che c'è il tragitto ma fino all'ultimo, l'anno scorso per esempio mi ricordo che me ne ero preoccupata e non è una cosa molto semplice perché poi è sempre una cosa che si arriva fino all'ultimo, al giorno prima di solito. No no perché c'è sempre il timore che queste manifestazioni radicali siano in qualche modo scambiate per altri eversivi e quindi è successo già che sono state proibite perché ci stavano diciamo perico insomma ordine pubblica e così via vengono inserite un po' nel calderone quando insomma sappiamo che sono manifestazioni che hanno la non violenza come praticamente linea di ispirazione e quindi insomma attendiamo appunto che ci siano tutti quanti quindi le autorizzazioni varie. Però guarda sul sito dei radicati italiani il percorso c'è, c'è anche la cartina e quindi vengono elencati i vari punti, quindi credo che eventualmente poi nel caso ci saranno altre comunicazioni che ti specificheranno meglio, però comunque il percorso c'è ed è anche pubblicato. Ah perfetto, perfetto, allora questa cosa poi la divulgheremo il più possibile. Leggevo che tra le varie in qualche modo dichiarazioni su questo, mentre registriamo la dichiarazione clamorosa abbastanza, che poi diciamo è un cambio di idea vera e proprio di Matteo Renzi che adesso appunto è segretario del PD, che invece è contrario, cambio di opinione rispetto al passato in cui si era detto a favore in occasione di un lungo sciopero della fame della sede di Marco Pannella e invece si era adesso contrario perché non sarebbe in qualche modo una cosa etica, insomma un messaggio per i giovani, questa cosa… Diseducativo, l'ha definito diseducativo. La direttura diseducativo, perfetto. Certo, questo dal nuovo segretario del PD, ecco per tutto il mondo radicale, per chi vuole questa amnistia, non è una buona notizia, non credi? No, certo, è una cosa grave soprattutto che un segretario come Renzi di un partito che certamente ha un peso nel paese, ma soprattutto i presupposti che hanno spinto Renzi a occuparsi di questo partito democratico, quindi di rinnovare questo partito democratico, di portare aria fresca in qualche modo alla politica e non sta dimostrando chiaramente di essere né disponibile al dialogo su questo fronte, ma neanche più aperto dei suoi predecessori. Ha fatto un po' come ha fatto Beppe Grillo in qualche modo, anche Beppe Grillo aderì nel 2005 come adesione, poi fisicamente non c'era, però la sua adesione c'era stata, sulla marcia di Natale che si fece proprio nel 2005 e poi diventato leader del Movimento 5 Stelle e evidentemente ha cambiato idea, poi si ritorna quindi al discorso che facevo prima, sempre vittime di compromessi o sempre in balia poi di consensi elettorali che non gli consentono di… non dico molto, ma veramente in questo modo loro si oppongono anche al dibattito su questi temi, mentre invece per noi è importante anche quello, che se ne discuta, che si possa parlare finalmente anche di giustizia e non solo di carceri, del perché noi chiediamo l'amnistia e quindi perché sulle carceri un po' se ne parla, i detenuti hanno sbagliato ma in certe occasioni diventano pure, lo dice anche il Vangelo, va a trovare i carcerati e quindi allora per Pietas ogni tanto in aula qualche intervento diciamo di questo tipo lo senti anche dal PD, anche dai 5 Stelle, qualche volta forse anche qualche leghista per dire, ma al di là di questo della Pietas non si va, non si vuole andare, si rifiuta quindi un provvedimento che è costituzionale, sbandierano la Costituzione tanto cara e tanto bella, però quando si tratta poi di discutere invece di provvedimenti previsti in Costituzione, chiaramente eccezionali e questo lo è, ma è anche un momento di emergenza come dire incredibile che va risolta necessariamente con un provvedimento di questo tipo. Di fronte a questo Caro Renzi appunto ha dichiarato che è un provvedimento diseducativo, quando invece, dice per i nostri figli è un provvedimento diseducativo, ma è diseducativo innanzitutto che uno Stato non dia neanche il tempo alle persone recluse di elaborare il crimine in qualche modo che hanno commesso, lo sbaglio che hanno fatto, perché queste persone in realtà si sentono vittime e hanno ragione ad essere vittime, perché sono vittime in questo momento di quel sistema che le tortura e quindi credo che questo sia diseducativo, il fatto che un ragazzo possa venire a conoscenza che in carcere esistono i casi Cucchi, il caso Perna, tanti che ce ne sono stati. Sì, effettivamente certe volte bisognerebbe consigliare di andarle a vedere certe situazioni per poter poi vedere dove sta la situazione diseducativa e passando diciamo dagli slogan di Renzi alla responsabilità, che sono delle cose un po' diverse, perché le stesse persone, io penso che in un certo qual modo lo slogan quando si è lotta, quando si fa parte appunto di una forza non di governo, comunque non si ha una responsabilità, c'è una certa facilità a parlare per slogan, però poi dopo quando si ha la responsabilità istituzionale e in cui parla appunto di Enrico Letta, allora la prospettiva cambia, infatti Enrico Letta in qualche modo ha detto che il Parlamento si dovrà assumere le sue decisioni, ha citato anche la patria appunto d'Italia come patria di Cesare Beccaria e probabilmente si sente anche chiamato a una responsabilità per il fatto che il Consiglio d'Europa ha richiamato l'Italia più di una volta e ci ha dato una scadenza, che è quella del maggio 2014 per poter metterci in regola appunto per quanto riguarda questa vicenda. Beh sì, certamente poi è chiaro che Letta non può sottrarsi da una responsabilità che comunque gli compete a pieno, voglio dire, però non so fino a che punto Letta, francamente non lo so come si è indirizzato su questi provvedimenti, perché nello specifico non mi pare abbia mai proprio detto niente, però chiaramente Letta anche la responsabilità come qualcuno ha detto da poco, se innanzitutto l'Italia entro maggio 2014 non si adeguerà a ciò che l'Europa ci ha detto, le altre istanze di risarcimento d'anno che sono state fatte dai detenuti italiani comporterebbero una spesa di 60 milioni di Euro da pagare e quindi non so se il governo vuole assumersi anche quest'onere economico che mi pare già ce ne siano abbastanza sulla testa degli italiani per avere poi un Paese che non funziona e le carceri non sono altro che aveva ragione Voltaire quando diceva che la civiltà di un Paese si misura le nostre carceri, infatti il nostro Paese credo che stia dando dei pessimi esempi un po' su tutto. Irene il nostro tempo sta quasi finendo, io volevo darti la possibilità di fare un appello in chiusura e soprattutto di ricordare se ci sono appunto siti, indirizzi, link, qualche cosa con i quali via internet poter essere coinvolti e poter dare una mano e poter conoscere anche questa battaglia. Sì, allora guarda su internet abbiamo creato una pagina che si chiama Marcia di Natale per l'Amnistia, è una pagina dove diciamo che ci sono diverse presenze, tra cui anche molte persone interessate personalmente al problema, ci sono dei parenti di detenuti, c'è le sorelle Terragni che sono molto attive su questo e che quindi si stanno organizzando anche con dei mezzi per poter venire a Roma, stanno dando una mano anche ad altri che magari stanno fuori in giro per l'Italia, quindi ho visto che ci sono diversi programmini e questo è un lavoro molto utile perché comunque quando ci sono tante persone che magari vorrebbero raggiungere Roma, però non sanno come farlo, quindi avere un passaggio può essere una cosa molto utile, quindi c'è questa pagina, poi c'è su www.radicali.it l'appello con tutte le adesioni e anche con la possibilità di poter aderire direttamente online, anche questo è utile, quindi invito anche chi l'ha fatto sulla pagina di Facebook di farlo anche sui siti perché ci serve anche un po' per monitorare, per capire il tipo di presenza e poi anche ci sono le pagine dedicate del partito radicale che ospita anche radicalparty.org che ospita anche le cartoline che sono state fatte proprio su questo, sia per il fanraising e sia come pubblicità a questo evento, poi ci siete voi che con questo strumento ci date una grossa mano, io cercherò di farlo girare per quanto posso sulle pagine che ho a disposizione e poi quindi invito tutti ad accelerare, ad impegnarsi sempre di più in questi giorni perché il tempo ormai è alle porte, la marcia è alle porte. Sì, peraltro Alessandra Delrani l'abbiamo avuta in trasmissione qualche settimana fa, è molto attiva su questo, hai seguito, perfetto, ha messo su una rete di contatto molto importante. Sì, è stata molto bella quell'intervista perché credo che un aspetto che si considera molto poco, in generale un po' su tutti i fronti, sono sempre quelle persone che stanno fuori poi dalle carceri che però hanno un congiunto ristretto e sono spesso quelle persone forse che soffrono, forse oserei dire a volte anche più della persona che sta rinchiusa in carcere perché sono quelle che si accollano tutto il peso di dover reggere una famiglia, di dover come dire, avere le risorse anche economiche per poter mandare avanti dei processi e spesso sappiamo che chi finisce nelle maglie della giustizia sono persone per la maggior parte delle volte povere, disperate e quindi posso immaginare la disperazione che queste famiglie si ritrovano a vivere e quindi quell'intervista mi è piaciuta molto perché era molto vera, entrava nei particolari, sul pacco che veniva portato ai parenti, su come anche umiliante per un parente che comunque prepara il cibo per portare i colloqui, vederselo poi spezzettato, ridotto perché deve essere controllata ogni cosa e quindi questo ti fa capire quanta poco o poco tatto ci sia anche poi nei confronti di queste persone che vengono spesso considerate anche loro colpevoli solo perché sono parenti di una persona che ha sbagliato e quindi insomma mi è piaciuta quell'intervista. Sì, facciamo il possibile, peraltro magari ti chiedo a te conferma un piccolo rammare che forse quello che un provvedimento di amministratore indulto poco può incidere sulla condizione, è un'altra delle condizioni terrificanti di cui l'Italia è fonte che è quello nei CIE, per tutta la questione dell'immigrazione, siamo partecipati, abbiamo visto i libri tv, è stata presente la visita CIE che ha fatto Pannella, Rocco Berardo e un po' di gente radicale, anche lì è una condizione terribile, non so quanto potrebbe essere anche lì efficace, non so quanto potrebbe l'amnestia e l'indulto, sono dei luoghi che veramente sono fuori da ogni, a me è sembra fuori da ogni legalità e da ogni anche ragionevolezza. Guarda, assolutamente sì, non credo che questi provvedimenti diciamo in qualche modo vadano a colpire le persone ristrette nei CIE e certo è che però di situazioni di chiusura e di bruttura ce ne sono più d'una, quelle dei CIE ma anche quelle degli OPG che comunque anche lì con un'amnestia e un indulto queste persone sono… Ma poi ci sono questi OPG che dovevano essere chiusi, tu hai notizia, si riusciranno a chiudere, ci saranno proroghe infinite? Guarda, già ci sono proroghe e quindi la chiusura che doveva essere prevista per marzo 2014 salterà perché poi in realtà alcune regioni non sono ancora pronte, altre invece si dicono pronte e comunque anche quelle che sono pronte e quindi diciamo in quelle regioni dove verranno chiusi si dice che stanno mettendo su dei piccoli reparti psichiatrici o dei mini manicomi e quindi anche lì sinceramente non mi pare che la cosa stia andando come in realtà era stata inizialmente accennata come un po' per tutto quello che viene sbandierato come dire come grandi… perché adesso mi viene in mente anche la legge sulle detenute madri e che anche quella per esempio forse mi sa che ci avevi anche seguito tu sulle varie manifestazioni che avevamo fatto, anche lì era stata approvata questa legge e delle ICAM che dovevano essere pronte nel 2014, quindi praticamente dovevano… insomma sta scadendo, la legge prevedeva che entro un paio di mesi da oggi e invece di ICAM siamo rimasti fermi dove eravamo, lo stesso Renzi si è vantato di averla a Firenze quando a Firenze non c'è per esempio e quindi i bambini continuano a stare in carcere, quindi sul fronte OPG stiamo così, sul fronte bambini in carcere stiamo così, sul fronte internati perché poi ci sono le case lavoro degli internati che anche lì guarda ti invito quando ne avrai voglia, tempo anzi di aprire proprio un… come dire di fare una trasmissione su questo perché quelli sono veramente… loro si definiscono i dimenticati, quelli che stanno in un girone dantesco e hanno ragione perché queste sono persone che sono state già condannate, hanno scontato la loro pena, hanno finito di scontare qualunque pena, però sono persone ritenute socialmente pericolose, ma la pericolosità sociale ti può essere data e poi magari non viene rivista e te la tieni per 20, 30 anni e queste persone in realtà se avessero un domicilio o qualcuno pronte ad ospitarle potrebbero uscire da lì, altrimenti devono stare in queste case lavoro che in realtà sono carceri perché sono delle sezioni di carceri normale come tutte le altre, quando invece le case lavoro erano nate col codice Rocco che prevedeva per i barboni tutte queste persone senza fissa dimora che andassero a lavorare in queste case lavoro e all'epoca poteva avere un senso ma adesso non ha alcun senso, a me mi scrivono alcune di queste persone e io credo che sia veramente una sofferenza atroce pensare che esista una condizione di questo tipo dove queste persone devono stare in galera per tutta la vita fino a che non troveranno un giudice che deciderà di mandarli a dormire sotto un ponte perché quando siamo andati a visitarli spesso ci hanno detto ma ci vivono gli zingari sotto i ponte, ma non per essere razzista non voglio dire questo, chiunque può vivere sotto un ponte perché io no, perché se non ho una casa e se quel poverascio non ce l'ha una casa, deve stare tutta la vita in galera, comunque voglio dire il nostro Stato potrebbe anche le nostre istituzioni impegnarsi affinché quelli in qualche modo possano soffrire di un alloggio, ma non tenerle in galera così e sono circa 1500 queste persone, dimenticate totalmente, dimenticate anche da chi si occupa spesso di carceri perché quindi spesso mi scrivono e mi dicono insomma fai possibile per parlare di noi, non ti dimenticare di questo problema, io non me ne dimentico però certamente e poi è difficile quando non si hanno strumenti e io non è che ho tutti questi strumenti a disposizione, faccio quello che posso, però appunto quindi è importante anche parlarne così come stasera tu mi stai dando la possibilità di fare. Ok Irene, quindi c'è molto da fare per tutte queste discariche di esseri umani, discariche indifferenziate di esseri umani che l'Italia in qualche modo utilizza in modo secondo me illegale se non altro rispetto a una legalità che è quella del rispetto dei diritti umani e quindi c'è molto da fare, auguri a tutti voi, a tutti noi perché possiamo in qualche modo promuovere tutto questo e ci vedremo alla marcia di Natale, vedremo di fare delle interviste e testimoneremo questo lavoro e buona fortuna a tutti noi, grazie ancora Irene. Grazie Gianni, grazie mille. Grazie, a presto quindi restituisco la linea alla regia. Grazie a tutti.